rilanci davanti, palla che termina le parti di costa corta quindi Milan che parte in maniera molto aggressiva è giusto? giusto va bene un flash da Lecce, Rossi si dopo il tiro che era di Scema Antoni imbeccato da Conan e Inter che prova a riorganizzarsi e gol, 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 gol altri Scema del Cacca, gol, gol, gol altri Scema del Cacca Sente che la meta! La meta! Cardo! 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 Scema, gol, gol e andiamo